Ride di baci e cuori invece di atti vandalici. Nonostante le incursioni e i furti subiti di fiori e arredi, piazza 3S e Trento si conferma un belico dell'amore in una città più volte anche di recente presa di mira dai vandali. A un anno dalla sua adozione, la Gorà recuperata dal degrado da alcuni cittadini e dall'artista Dorotea Virtuoso, anche stamane nel segno di San Valentino è stata impreziosita da fiori e grandi cuori. All'evento hanno presenziato anche il sindaco Festa e la vice Nargi, che si sono complimentati con i promotori del restyling e delle tante iniziative che puntano a tenere in vita la piazzetta finita per anni nel dimenticatoio. Un esempio da seguire per dimostrare amore per la propria città. Un muro di baci e cuori alzato dagli indomiti di piazza 3S e Trento per fermare gli incivili. Sì, oggi proprio la piazzetta compie un anno. In occasione di San Valentino, stamattina abbiamo allestito con tutti i palloncini rossi a cuore per augurare che l'amore è per tutti. Ci sono anche i clown? Sì, sì, sì. Mi hanno omaggiato stamattina i clown di corsia di Missione Sorriso. Accanto a me c'è Antonio Leoneacoro e quindi siamo tutti insieme stamattina. Chi vuole può venire qui, può farsi una foto, si può abbracciare, si può fare tutto quello che vuole perché la piazzetta è per tutti. Un messaggio anche alla comunità, ripetere questo tipo di esperienza. Dopo un anno, presumo che il bilancio sia positivo. Sì, io devo dire che dopo che è stata messa questa mia installazione artistica nella piazzetta e abbiamo adottato l'area verde, ci sono stati molti commercianti che hanno preso la mia stessa iniziativa e biancono veramente che in futuro ci saranno altre iniziative come queste di abbellire la nostra città. Io sono qui perché l'impegno di Dora è veramente magistrale. È un anno che Dora insieme a tutto il quartiere lavora per questa piazzetta e questa è la prova che funziona la cittadinanza attiva. Abbiamo sempre detto che fare il sindaco, fare amministrare una città non è per niente semplice ed è necessario l'aiuto dei cittadini. E Dora è proprio la perfetta incarnazione di questo concetto. Quindi questa piazzetta sta funzionando, è stato rivitalizzato un posto di Avellino che era totalmente abbandonato. Quindi invito tutti i cittadini, come ho fatto anche l'anno scorso, a seguire l'esempio di Dora perché è fondamentale dare una mano a questa città se veramente la amiamo e vogliamo bene, come sempre diciamo.